Buongiorno a Filippo, benvenuti a Turchia, Istanbul. Abbiamo alcune domande per voi. Come vedete la competizione in questo mercato diagnostico? Quali sono i tuoi commenti su questo? Buongiorno a tutti e grazie per aver guardato a TEXA in questa meraviglia. La competizione è molto forte. Per i car diagnostici è molto difficile. Ma dobbiamo considerare che c'è una novità nel mercato automotivo, che è la possibilità di accettare il porto sicuro. Questo è qualcosa che non tutti i competitori possono fare. TEXA, grazie alla nostra reputazione e alla nostra grande relazione con i car manufattori, possiamo avere la possibilità di accettare il porto di car manufattori grazie alla nostra negozia e relazione con i car manufattori. per i car manufattori, rischi e così via. Quindi con i nostri software, con i nostri strumenti, abbiamo la possibilità di accettare i car manufattori in modo legale, in modo sicuro e in modo professionale. anche la nostra seconda domanda è come vedete il mercato ADAS? Adesso è diventato molto popolare per i carri e per i carri. E vorrei sapere anche i vostri commenti per il futuro del mercato ADAS. Il mercato ADAS è molto importante perché l'industria automotiva va verso l'autonomo. Quindi ADAS è un passo in giro. Con ADAS parliamo di la sicurezza del car, la sicurezza del driver e la sicurezza di tutti. quindi bisogna essere sicuri di fare un lavoro perfetto, un lavoro sicuro. Con il nostro strumento professionale, potete calibrare la camera e il radar sui carri, con le instruzioni dei car manufattori. Questo è un punto molto importante perché non tutti i nostri compagni seguono le instruzioni manufattori. Lo facciamo, lo seguiamo 100%. Quindi usando il nostro equipaggio per calibrare il senso ADAS, potete sicuramente fare un lavoro perfetto. E questo è importante perché bisogna assicurare che la sicurezza di tutti nella strada sia bene, sia bene. Grazie molto, Filippo. Benvenuti a Istanbul. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.